Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio la FIDE per avermi invitato e per aver dato la possibilità anche di poter parlare con un pubblico decisamente referenziato per poter capire questo tipo di messaggio, cosa che noi stiamo cercando di portare avanti da diversi anni. Devo dire che l'esperienza che mi coinvolge nasce da un progetto che era un sogno di circa 5-6 anni fa e che si è concretizzato proprio quest'anno e a questo sogno hanno contribuito in maniera determinante alcune persone che sono anche qui presenti, in particolare padre Sebastiano dei Rogazionisti di Padova, che ringrazio veramente, è impegnato a farci le fotografie per cui riceverà questo applauso in diretta. Diciamo che da lui è nata la possibilità di realizzare un sogno che era quello di cercare di cambiare il volto della mia città. Io sono nato e vivo a Padova, ho girato per vari motivi un po' tutto il mondo, ma devo dire che la mia città mi è sempre rimasta nel cuore. Avevo un progetto, quando avessi potuto portarlo a termine sarebbe stata la realizzazione di un sogno. Brevemente, Padova quest'anno si è candidata per un secondo riconoscimento UNESCO come Urspicta, la città dipinta. Questo perché nella tradizione della nostra città, fin dal 1200, gli edifici venivano dipinti all'esterno. Era una forma di comunicazione, è lungo a spiegare, lo potremmo spiegare in un altro contesto non in questo momento. Comunque il risultato è stato che ancora oggi, a distanza di quasi 900 anni, noi possiamo candidare la nostra città ad essere riconosciuta come la città dipinta nelle sue pareti esterne e questo riconoscimento dovrebbe essere conclamato nel 2020. La nostra idea era questa. Se nel 1200 qualcuno era così lungimirante, forse per motivi contingenti più che per motivi artistici, di dipingere gli esterni delle case, perché non continuare a portare avanti questa tradizione, che è una tradizione che comunque si sviluppa in diverse parti del mondo per diversi motivi. Per cui abbiamo ideato la prima biennale internazionale di street art nella città di Padova, una piccola città di provincia che conta 150.000 abitanti. Si candida ad essere una capitale internazionale per una forma di espressione contemporanea, soprattutto rivolta ad un pubblico giovanile e ad un pubblico particolare, perché ricordiamoci che la maggior parte degli street artist nascono da un moto di difesa, da un moto di rivoluzione, da un moto di contestazione sociale. Non so come esprimermi, mi esprimo come? Con la forma di comunicazione primaria, la pittura. Ricordiamoci che la scrittura nasce dalla pittura. I primi uomini disegnavano sui muri, disegnavano i muri delle grotte. Il ragazzo in difficoltà relazionale si esprime come? Sulle pareti, e lo fa sulle pareti dove è vietato, perché è l'unico sistema per farsi capire. Cioè mi vedono, per cui capiranno che esisto, per cui capiranno il mio messaggio. Questo tipo di messaggio oggi è codificato. Oggi ci sono degli artisti che fanno il record a tutte le aste internazionali. Cito tra tutti i Banksy, milioni di euro, nasce vent'anni fa, non è il Picasso e la situazione, non è il Michelangelo la situazione. Vent'anni fa nasce un atto di protesta sul muro. Oggi alle aste internazionali i ricchi del mondo se lo contendono a suon di milioni di euro. Allora vuol dire che qualcosa questo riesce a comunicare, perché nessuno è così folle, soprattutto chi detiene il potere economico, non è così folle da buttare i suoi quattrini dalla finestra. Questo sistema di comunicazione, partendo da zero, in vent'anni raggiunge dei livelli folli. Ora qui noi abbiamo un artista di strada, un ragazzo che ha seguito esattamente questo percorso. Io lo conosco circa una quindicina di anni fa, io gestisco una galleria, ho aperto una galleria trent'anni fa per il gusto di dedicarmi all'arte, facevo tutt'altro la vita, io ho studiato medicina, però figuratevi. Questo ragazzo si presenta da me e mi dice io faccio questo, mi fa vedere dei lavori, delle foto di lavori, dico ma i quadri dove sono? I miei quadri non ci sono, non esistono, sono sui muri della città. Effettivamente alcune di quelle cose le ho riconosciute come presenti sui muri delle città. Uno street artist, uno street artist come noi abbiamo effettivamente in mente di immaginare, cappellino calato sugli occhi, occhiali scuri, berretto della felpa tirato sopra la testa per non farsi riconoscere, perché è vietato andare a dipingere sui muri, soprattutto quando non si è autorizzati. E gli street artist non sono autorizzati. Il loro atto di protesta è proprio attaccare il muro, attaccare qualche cosa che è costituito come sacro. E dico che cosa vuoi da me? Io non ho muri da darti. E dice però vorrei capire come funziona il mondo delle gallerie. Dico funziona in maniera completamente diversa. Cioè noi proponiamo un prodotto, possono essere mele, zucchine o quadri, e qualcuno viene qui e tira fuori, fa il gesto più difficile del mondo, mette la mano nella tasca posteriore dei pantaloni, come diceva mio nonno, non è facile tirare fuori i soldi, non sono nel taschino della giacca, è dietro, per cui devi convincermi a mettere la mano là dietro per tirare fuori i soldi, per cui devo presentare un qualcosa che alla gente piaccia e qualcuno tirerà fuori dei soldi per comperarlo. E calcoliamo anche che, a dispetto di quello che ha detto la dottoressa Ottolini o la vostra presidente, che io apprezzo, farei un monumento in questo momento, l'arte del bello. Voi pensate che per il 99% delle persone con le quali io mi relaziono tutti i giorni nel mio lavoro, il bello è l'essenza dell'inutile. Cioè la gente viene da me e dice bellissimo, quanti soldi costa? 100 euro. Eh sì, beh, ma sono tanti soldi. Prima devo comprare le scarpe per il mio figlio, prima devo pagare le bollette. Il bello, sì, il quadro è bello, però è inutile, non mi ci siedo sopra, non me lo mangio quando ho fame, non me lo metto sulle spalle quando ho freddo. Per cui, convincere qualcuno a dedicare una parte sostanziale della propria esistenza, cioè il denaro, che vilmente è l'essenza della vita delle persone, perché senza di quello non mangiano, senza di quello non arrivano alla sera, e convincerli a spendere, ad investirlo nel bello, è veramente complicato. Per cui, parlare di queste cose con un ragazzo che mi avviene a dire, io dipingo i muri e vorrei dipingere le tele per poterle dare alle persone che le comperano e le mettano dentro le loro case, era una sfida difficile. L'abbiamo accettata insieme, partendo da un presupposto. Cerchiamo di creare i presupposti per la gente che lo capisca, e da di là è partito tutto un lavoro. Oggi abbiamo qui Alessio B. Alessio B è diventato quasi un marchio di fabbrica, il suo nome con l'iniziale e il suo cognome. Perché non si presenta con nome e cognome come tutti gli artisti? Perché c'è questa volontà di restare mascherato, di restare anonimo. Per molti anni non potevo neanche fotografarlo. Per molti anni i giornalisti che mi telefonavano per chiedere ma chi è questo Alessio B? Chi sta facendo queste cose in giro per la città? Che sta facendo queste mostre? Che viene citato nelle riviste internazionali? Perché nel giro di pochi anni è arrivato a livelli internazionali? Chi è? Voglio parlargli, voglio sentirlo. Al massimo ho cominciato a concentrare qualche intervista televisiva, ma solo telefonicamente si faceva ritrarre di spalle. Era un po' un personaggio. Questo personaggio ha creato nell'immaginario collettivo la volontà di conoscerlo. Un po' alla volta siamo riusciti a convincerlo e oggi è qui con noi, per cui si presenterà in pubblico. Una delle poche volte, devo dire la verità, forse la seconda o la terza, se ne mettiamo in mezzo una piccolissima, nella quale si presta ad una rappresentazione in pubblico. Lo show live lo evita, non lo vuole. perché, come quasi tutti gli artisti, è estremamente timido. Si esprime con la sua arte. Se avesse avuto un'altra forma di comunicazione, probabilmente avrebbe fatto un altro mestiere nella vita. Ha studiato architettura, poteva farlo architetto. Ma il fatto di relazionarsi con le persone non era nelle sue corde. Lui doveva esprimere la sua essenza in un'altra maniera. E come la esprime? La sua tematica, molto semplicemente, è la tematica dell'amore, della bellezza. Innamorato dei bambini. Il bambino è la purezza per lui. Il bambino è l'essenza stessa della vita. Ha un cervello sgombro, è una spugna che assorbe tutto quello che riceve e rilascia quello che noi gli abbiamo fatto ricevere. Per cui il bambino è la tematica forte della comunicazione di Alessio B. Quasi tutte le sue opere sono impostate sui bambini. Alessio B è un artista internazionale. Oggi è considerato uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo. Ha partecipato alla Biennale Internazionale di Venezia nel Back to Back to Biennale cinque anni fa. È stato uno degli autori di un'opera importantissima che è stata poi quella ripresa in questo video a Padova durante la prima Biennale Internazionale Street Art. Ha esposto nelle maggiori capitali mondiali, dagli Stati Uniti alla Corea, dal Belgio all'Olanda, piuttosto che alla Germania, all'Inghilterra, alla Francia. Non saprei più dire dove non è esposto. Addirittura abbiamo avuto l'onore che il museo del cut-off di Berlino, il primo museo internazionale di street art, dopo aver acquisito una sua opera, ha chiesto l'utilizzo dell'immagine di un'opera prodotta da Alessio B per creare la locandina per l'inaugurazione del museo stesso. Per cui possiamo dire abbiamo il piacere di ospitare qui Alessio B. Io con questo concludo e lascio agli altri la parola. Grazie.